porca puttana ragazzi scusate la parolaccia ma io oggi oggi ho le stesse vibes se si dice così termine diciamo moderno ho le stesse vibes di Gubbio lì mi sento di un incredibile derubamento non so come cazzo spiegare a me su me vengono manco le parole però oggi ragazzi abbiamo fatto davvero una grande impresa e come disse una volta De Rossi dopo un 7-1 mi pare in una intervista è proprio oggi che mi sento di che sono orgoglioso di essere romanista cazzo porca puttana proprio oggi sono orgoglioso di essere romanista porca troia io l'ho messa la strizza io l'ho messa la strizza anche se ce la dire ovviamente che però ci hanno fatto adesso guardiamo qui sulle statistiche ci hanno preso letteralmente appallonati ringraziamo Svilar perché porca puttana senza di lui ne avremmo presi ci voleva il pallottoliere il carretto come si dice a Gubbio con tutti i palloni sopra porca troia aspettate un attimo e niente sono sfinito ma mamma mia partita incredibile incredibile sta partita anche da commentare da analizzare mi sento di niente dalla squadra non c'è stato nessuno super sfogo sinceramente ormai abbiamo dato quello che abbiamo dato c'erano dei limiti tecnici ampi come dicevo prima l'amico mio c'erano dei limiti tecnici ampi ampi tra ovviamente tra la Roma e Stoliverkusen però anche con i limiti tecnici abbiamo dimostrato un cuore un qualcosa di indiescrivibile secondo me e quindi davvero posso di niente oggi dalla squadra forse l'unica cosa che posso dire da mister De Rossi che secondo me d'anchiodà su sta panchina per i prossimi vent'anni secondo me perché se miglioriamo sta rosa se i presidenti fanno davvero uno sforzo un bello sforzo secondo me dopo saremmo noi altri a far piangere gli avversari io lo dico adesso ve lo dico adesso e quindi niente fa male fa male purtroppo io ho 31 anni figuriamoci quante non vissute tra l'Italia mi ricordo l'Italia Euro 2000 mamma mia ragazzi Euro 2000 quella Francia che fece quel gol gelò tutto gelò tutto però ci rifacemmo nel mondiale del 2006 proprio con la stessa Francia che tra l'altro se non ricordo male segnò proprio Tre Seghe tu lì ero 2000 se non ricordo male se può essere che sbaglio e poi chi sbaglia proprio Tre Seghe prendendo il palo la traversa se non mi ricordo bene però il calcio dà come dico sempre e il calcio toglie adesso toglie ma prossimamente darà sono sicuro questa cosa secondo me prossimamente darà spero c'è una rosa che davvero ha dato tutto questa partita perché nessuno secondo me sperava di fare due gol al Bayern Everkusen che è entrita tutto davvero hanno un gioco incredibile incredibile penso che manco il Barcellona nei tempi d'oro dei Guardiola secondo me hanno questo gioco perché fanno una marea di tiri incredibili cazzo e quindi mamma mia sono impressionanti per quanta mole di gioco fanno fanno una mole di gioco incredibile 33 tiri a 12 tra l'altro ho fatto una giocata ma stavolta ci ho messo poco perché nel calcio ultimamente ne chiappo mezza e ho fatto over 10 e mezzo tiri a fine primo tempo erano a 8 all'improvviso me veda levato tiri e 3 tiri levano questi fanno come cazzo gli a fare levano i tiri la fine è no 12 tu qui non capisco che cazzo fanno su bet 365 porca troia fanno un cazzo come una bestia porca puttana anche perché non li tiri i palesi non capisco delle volte come funziona comunque presa quindi sti cavoli ma adesso sinceramente della giocata poco me ne frega ma io mi sento di fare solo gli applausi da sta squadra perché davvero quanto sta squadra che è imbattibile tra l'altro anche oggi è record tra l'altro che batte il Benfica se non sbaglio adesso mi ricordo le 49 partite mi pare che non perdono però noi altri noi qualcosetta oggi pensavo peggio sinceramente pensavo peggio poi siamo anche stati benedetti dalla fortuna in qualche frangente mentre maledetti dalla sfortuna in qualche altro frangente vedi il gol del primo gol loro che è un altro regalo regalo insomma Mancini Svilar purtroppo il primo errore che però ragazzi Svilar porca puttana non so quante parate ha fatte ci mi vede subito ci mi vede subito 11 parate porca puttana 11 parate le vede in tre partite in serie A mamma mia ragazzi non vendete Svilar ragazzi picco qualcuno scusate scusate il francesismo ma porca puttana davvero questo è da tenere scusate scusate Grazie a tutti.